Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maxo, questo è un video veloce, spero Questo sarà un video veloce per illustrare, diciamo, quello che in due ore sono riuscito a fare andando in giro con Pokemon Go Godetemi il video, bella Grazie a tutti A presto 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 A presto